Salutiamo intanto Doni Fabroni che è appena arrivato, con sua plomba arriva sempre in grande ritardo e noi comunque lo salutiamo. Comunichiamo che la radio ha occupato anche la parte che aspettava al PD in questo stand. Occupato sembra brutto. Se vuole Doni Fabroni può tirare su un muro che magari non è di Perlino, è della casa del genere. Sì Alberto non ti si sente, è inutile che parli. Io penso che uno come te dovrebbe sapere questa cosa. Gli antenati del nostro caro amico, appena arrivato, erano svisceri. Esattamente, ricordiamo. Va bene, allora mandiamo Moni e rientriamo subito. Mandiamo? Mandiamo. Mandiamo? Moni. Ah ok. Moni. Ho detto Moni. C'è il corso di inglese alla radio. Allora questa era Sabrina Cicconetti, ricordiamo oltre che presidente del comitato genitori Villagordiani, oltre vicepresidente del consiglio comprensorio ICCQQ, non so come si chiami, delle scuole lì di Abbelli, di Apinelli, Viale Venezia Giulia, nonché produttrice, conduttrice e curatrice di Davide Ascoltando si impara. La grande trasmissione che va su Radio Roma Futura e nonché grande cuoca, in particolar modo sugli stufati irlandesi e su una serie di cheesecake e torte al cioccolato che a me piacciono molto. E non solo, anche con frutta, le torte con frutta. Le torte con frutta, esattamente. Allora, vogliamo andare in questa pausa musicale con Moni? Mandiamo Moni. Vamos, baby, scalbarza. Vamos. No, 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 no. Non, no, 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 no. Non, no, 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 no. Non, no, 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 no Grazie a tutti 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 Grazie a tutti